A tre giorni dall'annunciata emergenza rifiuti nei venti comuni della montagna aderenti al mote stamattina c'è stato il blocco dei camion e la discarica di casoli a Chieti è stata effettivamente chiusa per i rifiuti teramani, i quali sono rimasti all'interno dei comuni consorziati. Eppure nonostante ciò nelle primissime ore della giornata sono arrivati alcuni segnali positivi. Subito dopo l'allarme lanciato dal presidente della società Ermanno Ruscitti sembrerebbero essere arrivati i primi pagamenti dei comuni inadempienti. Una somma che supera di poco gli 800.000 euro. Un terzo della somma totale, 1.800.000 euro, che tali amministrazioni devono al mote che a sua volta deve girarli alla DECO, la società dei Dizio che controlla la stessa discarica di casoni. Una boccata di ossigeno che potrebbe far sì che già da domani il blocco dei camion possa essere revocato, afferma il presidente del mote che continua. Il grosso della cifra arriva proprio dai comuni della montagna. Ieri intanto era intervenuto sull'argomento il consigliere regionale Claudio Ruffini, che a proposito della minaccia di chiudere la discarica di casone e rifiuti del mote aveva dichiarato che era solo l'ultimo esempio di come il sistema di gestione dei rifiuti sia fuori controllo e sotto scacco dei privati. I comuni non hanno alternativa, spiega Ruffini, vengono portati all'esasperazione dei continui aumenti sulle tariffe di conferimento. Così accumulano ingenti debiti nei confronti del gestore della discarica che chiude i cancelli a chi non è in regola coi pagamenti, da qui l'aumento delle tasse. Da domani comunque, come confermato dai riusciti, casoni dovrebbe riaprire. Ho inviato una lettera allo stesso Dizio e però all'allarme dovrebbe essere orientato. Anche se il problema rifiuti è ben lungi dall'essere risolto.